Che hai detto? Vuoi la valcana e non sei capace? Dai, piglialo, ti insegno io. Ma che stai fa? Già lo stai mettendo in vasca? Dai, prendilo, metterlo sul tavolino, che prima della vasca ha voglia a te. Ora, comincia a spazzolare. Lo devi spazzolare tutto per bene, ma bene, voglio vedere la pelle. No il sangue, la pelle. Devi aprire tutto, non ci deve stare più nemmeno un nodo. Forza, comincia. Hai finito, dici, eh? Fammi un po' vedere. Che te pare spazzolato questo? Non lo vedi che non si vede la pelle? Forza, ricomincia. Se non ce la fai, prendi il soffiatore e fatti aiutare da lui. Vabbè, diciamo che va bene, dai. Allora, prendilo e mettilo in vasca. Ma lo devi bagnare, ma lo devi bagnare bene, 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 bene. Devi anche lì, devi vedere la pelle, perché il pelo di guardia è fatto apposta per non far bagnare il sottopelo. Quindi a te te sembrerà bagnato perché hai bagnato il pelo di guardia, ma poi vai per il sotto e non hai bagnato il sottopelo. Quindi che significa? Che il cane non lo lavi bene perché è bagnato a metà. Quindi non è un bagno, è un mezzo bagno. Quindi forza, bagna. Mo che l'hai bagnato, prepara lo shampoo. Ma dove lo stai a mettere? Mica lo devi mettere sul cane. Gli sciampi vanno diluiti. Piglia sto shampoo, metterlo dentro una bacinella, mescola bene, devi fare la schiuma. E poi ti aiuti con una spugna e cominci a lavar bene il cane. Ma no così, devi arrivare alla pelle. C'è sempre la pelle dei mezzi. L'hai insaponato bene? Ma bene, 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 bene? Ok, allora comincia a sciacquare. Mentre sciacqui, lo senti il pelo che ti scrocchia sulle mani? Se lo senti, significa che l'hai lavato bene. Se non lo senti, devi fargli un altro shampoo. Perché mentre lo sciacqui, quando non c'è più il sapone, devi sentire il pelo che scrocchia. Come se ci avessi i guanti in lattice. Ah, mo te scrocchia? Perfetto. Ci sono voluti due shampoo, eh? Avevi detto che l'avevi lavato bene, invece non è vero. Mo prendi un asciugamano e tamponi. Non strofini, tamponi. Perché se strofini, mentre ecci tutto un'altra volta, poi non abbiamo fatto niente. Mo c'hai tamponato? Mettilo sul tavolo. Piglia il soffiatore. E soffialo un pochetto a togliere l'acqua in eccesso. Fino a che vedi che volano le goccioline, come continua a soffiare. Per verso del pelo, contro pelo, dove è più lungo, magari cerca di non esagerare. Perché anche lì rintrecci tutto e poi è finito. Ora spegni il soffiatore. Ti ho detto di levar l'acqua in eccesso, mica da asciugarlo così, alla come viene. Spegni il soffiatore. Spazzola un'altra volta tutto il cane. Pel verso del pelo. Mai contro pelo. Solo le zampe contro pelo. Spazzolalo per bene e faccia passampettine. Ora prendi il condizionante. Non so se c'hai quello che si spruzza o quello che si spalma. Comunque, se c'hai quello che si spruzza, spruzzi. Se c'hai quello che si spalma, te lo metti sulle mani, tipo crema, e glielo passi su tutto il pelo. Riprendi la spazzola e rispazzoli tutto. E l'hai già spazzolato, lo so. O devi rispazzolà, perché il condizionante deve entrare pure sotto, se no glielo hai messo solo sopra e non favo niente. Deve entrare per bene, da per tutto. Oh, glielo avemmo fatta. Mo, pigli il soffiatore e cominci a asciugarlo. Le zampe contro pelo e tutto il resto per il verso del pelo. Eh sì, mentre asciughi, devi rispazzolà, da per tutto. No che passi il soffiatore così. No, devi spazzolare. Spazzoli, 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 asciughi, asciughi, asciughi. E non te muovi dal punto che stai asciugando fino a che non hai finito. Capito? Devi seguire le linee del cane. Parti da un punto e segui la linea. La doletta dura a zone non esiste. Se parti dalla testa, continui per tutta la linea del cane. Se parti dai piedi, continui per tutta la linea del cane. Hai capito? Non è che puoi fare un pezzo qua, un pezzo là. Non funziona così. Hai finito? Sei sicuro? Ce l'hai passato il pettine? Ah, non ce l'hai passato? Prova un po' a passaccelo. Ah, non passa bene? Lo sai perché non passa bene? Perché o non è aperto bene il pelo, oppure è ancora umido. Quindi forza, ricomincia, riaccendi sto soffiatore, ricomincia a asciugare dove non passa il pettine. Che magari col soffiatore riesci pure a capire se è bagnato o se è ancora chiuso il pelo. Dai, eh. Mo passa? Vabbè dai, mi fido. Allora, mo che è finito, che l'hai asciugato tutto, puoi cominciare a fare i piedi, il collo, le orecchie e la testa. Rifiniture, impastore, ne che devi stare lì a tagliare tutto e a fare la bella statuina. Rustico. Hai visto? Avemo finito. Ci voleva tanto? Se il video ti è piaciuto, metti like, iscriviti al canale, così mi fai guadagnare due sardi. Ci compro attrezzatura per fare i video un po' meglio, perché questi qui fanno veramente schifo. E poi, una simpatica come a me, nel mondo delle esposizioni, può stare tranquillo che non la trovi. Finito. Ciao, ciao.